salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questi sacchettini bomboniera margherita perché sono realizzati appunto con la mattonella granny margherita che vi ho proposto nel video precedente sono ideali in questo periodo per bomboniere sacchettini per comunioni cresime battesimi diciamo per tutte le vostre ricorrenze li potete fare giustamente dai colori adeguati alla vostra occasione e sicuramente semplicissimi e velocissimi da realizzare prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tic toc e lì cercherò con dei post delle storie di anticipare quello che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzeremo cotone fiocco bianco giallo e turchese lo lavoreremo con uncinetto numero 3 avremo bisogno delle perline per metterle appunto nei laccetti e un paio di forbici ho preparato due mattonelle granny e non ho lavorato solo l'ultimo giro quindi ho fatto la lavorazione granny e mi sono fermata quindi questa lavorazione la troverete nel video della mattonella granny margherita quindi non la rifaccio in questo momento e continueremo con l'unione di queste due mattonelle e quindi la realizzazione di tutto il sacchettino quindi qui non ho tagliato ancora il filo abbiamo le due mattonelle formate le dobbiamo mettere queste rovescio rovescio sul rovescio così per poterlo unire nei tre lati e lasciare libero un lato di ognuna delle mattonelle per una questione di comodità io metto l'ultima la mattonella che ho dall'altra parte guardate qui è la chiusura che ho fatto quindi la inserisco da questa parte e qui come vedete sono arrivata prima dell'angolo nella parte prima dell'angolo quindi prendo l'uncinetto mi inserisco nella lavorazione ecco maglie bassissime cammino verso l'angolo quindi faccio la prima maglia bassissima la seconda maglia bassissima mi inserisco nell'angolo e faccio la terza maglia bassissima avvicino le due mattonelle mi raccomando la parte del rovescio deve stare all'interno la parte dritta all'esterno mi sistemo il filo e dentro direttamente nell'angolo dell'altra mattonella mi porto il filo dentro la solina e faccio una maglia bassissima ora entro direttamente nel primo punto del nella prima maglia dell'angolo e allo stesso modo faccio con l'altra nell'altra parte e realizzo sempre una maglia bassissima qui ora partiamo con la piccola decorazione che ho fatto nell'unione due catenelle vado nella maglia successiva e faccio sempre una maglia bassissima 2 catenelle di nuovo nella prossima maglia prendendole sempre da tutte e due le parti maglia bassissima 2 catenelle di nuovo maglia bassissima quindi unisco le due parti facendo questo tipo di lavorazione due catenelle nel frattempo c'è la codina della parte finale di una delle due mattonelle che ce la lavoriamo direttamente così la nascondiamo due catenelle prendo da una parte dall'altra maglia bassissima due catenelle prendo da una parte dall'altra maglia bassissima ci devono combaciare comunque tutte le maglie da una parte dall'altra la decorazione che verrà è questa che sia da una parte che dall'altra può essere va bene lo stesso quindi il sacchettino poi lo possiamo sistemare sia da una parte che dall'altra perché questa decorazione è proprio la decorazione del bordo arrivati qui nell'angolo facciamo sempre entriamo nell'angolo direttamente facciamo sempre le due catenelle maglia bassissima due catenelle rientriamo nell'angolo maglia bassissima due catenelle e andiamo direttamente nella prima maglia laterale quindi abbiamo lavorato le prime due catenelle maglia bassissima nell'angolo 2 catenelle maglia bassissima nell'angolo e poi ci siamo ri agganciati alla prima maglia alta continuiamo così lavorando questa parte e questa parte e ci fermiamo qui nella parte superiore quindi lavoriamo i tre lati arrivati qui guardate nell'ultima parte non chiusa ci agganciamo sempre con maglia bassissima nell'angolo così e ora qui possiamo iniziare la lavorazione del nostro sacchettino vi faccio vedere l'unione che abbiamo fatto risulterà così da tutte le tre parti e ora iniziamo direttamente con la lavorazione quindi siamo nell'angolo qui ci siamo agganciati con maglia bassissima da qui facciamo partire tre catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta due catenelle di separazione filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso foro e facciamo una maglia alta filo sull'uncinetto entriamo come lavorazione granny nello spazio e facciamo maglia alta due catenelle e maglia alta così filo sull'uncinetto entriamo sempre nell'altro spazio e lavoriamo sempre maglia alta due catenelle e maglia alta così facciamo per tutti gli spazi ora stiamo arrivando insieme nell'altra estremità guardate entriamo qui quindi nell'angolo da questa parte e lavoriamo maglia alta 2 catenelle e maglia alta entriamo nell'altro spazio dell'angolo e lavoriamo sempre maglia alta 2 catenelle e maglia alta e torniamo indietro fino ad arrivare qui nella parte iniziale e qui in questa parte dell'angolo dobbiamo lavorare l'ultimo punto v siamo arrivati qui nella parte dell'angolo facciamo una maglia alta le tue catenelle e la maglia alta e ci chiudiamo nella terza catenelle iniziale con maglia bassissima quindi 123 con maglia bassissima quindi abbiamo realizzato il primo giro dell'unione delle mattonelle ora entriamo nel primo spazio che abbiamo con maglia bassissima ci rialziamo con 3 catenelle filo sull'uncinetto e lavoriamo un'altra catenella di separazione rientriamo nello stesso spazio e facciamo la prima maglia alta una catenella entriamo e lavoriamo la seconda maglia alta una catenella sempre nello stesso spazio un'altra maglia alta una catenella e l'ultima maglia alta nel nell'archetto dobbiamo avere quattro uno due tre quattro spazietti con quattro maglie alte lavorate più le tre catenelle iniziali fanno cinque quindi questo è stato l'inizio con le tre catenelle ora vedremo insieme dobbiamo lavorare cinque maglie alte intervallati da una catenella quindi entriamo nello spazio successivo quindi nel punto v e lavoriamo una maglia bassa filo sull'uncinetto andiamo nell'altro punto buso successivo e lavoriamo maglia alta catenella maglia alta quindi ne abbiamo fatte due facciamo la terza catenella la quarta catenella e la quinta guardate abbiamo 1 2 3 4 spazietti e questi sono gli archetti che ci devono venire saltando lavorando un punto v qui chiudiamo e qui lo lavoriamo continuiamo andiamo nell'altro chiudiamo con maglia bassa filo sull'uncinetto qui abbiamo l'altro punto v e lavoriamo sempre maglia alta catenella 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 e maglia alta ci chiudiamo nel prossimo con maglia bassa qui abbiamo il successivo e facciamo sempre la stessa lavorazione quindi lavoriamo sempre le nostre cinque maglie alte con una catenella di separazione ci chiudiamo nel punto v successivo e rientriamo in quello dopo questo non lavoriamo insieme quindi qui abbiamo fatto 12345 maglia alte ci chiudiamo e siamo arrivati nella parte iniziale quindi qui andiamo nella terza catenella iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato guardate anche questo giro di performare appunto questi archetti ora dobbiamo cambiare colore riprendiamo il bianco quindi come ho fatto in questi guardate ho ripreso il bianco nell'ultimo giro e poi ho fatto i laccetti quindi facciamo una catenella aggiunti va prendiamo le forbici e tagliamo fissiamo il filo e possiamo prendere il bianco ce lo portiamo qui sempre dove abbiamo la chiusura guardate questo è il primo spazietto quindi questo filo ora ce lo lavoreremo così lo sigilliamo e ci inseriamo anche la codina del bianco entriamo in questo punto quindi sempre nella catenella dove abbiamo chiuso ci prendiamo il bianco e facciamo una catenella ne aggiungiamo un'altra entriamo nello spazio prendendo tutte e due le codine sia quella della codina iniziale sia quella del bianco e realizziamo una maglia bassissima e qui dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nella parte laterale due catenelle e una maglia bassissima tranne che abbiamo iniziato dalla maglia alta quindi abbiamo iniziato con due catenelle maglia bassissima nello spazio due catenelle maglia bassissima nella maglia alta quindi facciamo passare la solina direttamente così due catenelle entriamo nello spazio e facciamo una maglia bassissima due catenelle entriamo nella maglia alta qui e facciamo una maglia bassissima 2 catenelle entriamo nello spazio maglia bassissima 2 catenelle entriamo nella maglia bassissima maglia bassissima spazio e maglia alta così qui siamo arrivati alla fine entriamo direttamente nella maglia alta del giro successivo quindi dell'arco successivo facendo una maglia bassissima quindi ultima maglia bassissima maglia 2 catenelle e ricominciamo rifacciamo quello che abbiamo fatto finora ci lavoriamo spazi e maglie alte continuiamo la nostra lavorazione fino ad arrivare alla fine del giro e questa sarà la nostra decorazione nella parte superiore questa era l'ultima maglia alta entriamo nella prima dall'altra parte maglia bassissima e ricominciamo arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella prima maglia iniziale con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo lo stringiamo e questo filo lo nasconderemo fra le maglie quindi lo facciamo passare nella lavorazione lo potete fare con l'uncinetto lo potete fare con un ago sempre nella lavorazione del bianco e lo possiamo tagliare tagliamo anche i fili che abbiamo bloccato nella lavorazione e anche questo iniziale e abbiamo terminato guardate che bell'effetto il sacchettino guardate completamente ora dobbiamo solo fare i laccetti e inserire le perline nei laccetti quindi prendiamo il bianco e facciamo le nostre catenelle lasciamo un pezzetto di godina guardate prendiamo l'uncinetto facciamo un cappietto che non conteremo all'inizio quindi lo stringiamo e ci lavoriamo 50 catenelle lavorate le nostre 50 catenelle possiamo tagliare il filo però lo dobbiamo tagliare un pochino più lunghetto quindi lasciamo all'incirca la stessa lo stesso quantitativo dell'inizio lo sfiliamo e stringiamo di questi ne dobbiamo fare due quindi questo l'abbiamo fatto insieme e questo l'avevo fatto già io quindi sempre due di 50 catenelle ora prendiamo un ago inseriamo una codina nell'ago l'altra la leviamo prendiamo il sacchettino e andiamo qui guardate nella parte laterale non mi potete confondere perché dove arriva appunto la cucitura delle due mattonelle in questo spazio entriamo quindi abbiamo una maglia di qua e una di qua entriamo in una e facciamo passare l'ago facendo prendendo un sì e un no quindi facciamo passare un pezzetto lasciamo un pezzettino di catenella e continuiamo quindi entriamo prendiamo una solina alla volta una maglia alla volta andiamo qui nella parte laterale e facciamo la stessa cosa arriviamo qui dall'altra parte e facciamo la stessa cosa e siamo arrivati qui nella parte guardate nella parte finale con l'inizio sistemiamo la catenella quanto devono essere della stessa lunghezza e la prima catenella l'abbiamo inserita prepariamo l'altra catenella sempre allo stesso modo questa esce da questa parte ora dobbiamo iniziare dall'altra parte quindi andiamo sempre qui nella parte laterale dove abbiamo appunto già passato le nostre catenelle entriamo in una delle due lasciamo sempre un pezzetto di codina e ora rifacciamo la stessa cosa da questa parte non vi preoccupate se vi viene a me per ora sta avvenendo nello stesso verso se vi viene alternato perché poi alla fine sarà una decorazione anche del sacchetto così qui siamo passati facciamo sempre la stessa lavorazione ripassiamo sempre allo stesso modo così fino ad arrivare qui anche da questa parte quindi sistemiamo anche di qui la nostra catenella quindi siamo così questo da una parte e questo dall'altra la prova da fare è semplice prendiamo due catenelle da qua e due da qua stringiamo e abbiamo chiuso il nostro sacchettino quindi va benissimo ora possiamo inserire le nostre perline quindi io ho preso delle perline più grandi voi potete utilizzare comunque quello che volete potete utilizzare anche qualche qualche oggettino decorativo io sempre con l'aiuto del lago inserendolo prima in una codina e poi nell'altra inserisco la perlina giustamente prima di fare questo dovete assicurarvi che la perlina passi in tutto l'ago in questo caso guardate passa inserisco la perlina e la metto direttamente guardate nelle catenelle sfilo e vado dall'altra parte e mi prendo l'altra codina inserisco anche questa nell'ago guardate questa la riporto nel filo entro nello stesso così nel buchetto della perlina e inserisco anche questa ok posso levare l'ago la perlina inserita in tutte e due i laccetti la faccio passare così nelle catenelle in questo caso passa se non passa non ci sono problemi perché poi con il nodino la potete lasciare tranquillamente anche al di fuori facciamo un nodo quindi facciamo così facciamo passare sulle catenelle dopodiché guardate ci chiudiamo facciamo passare ecco nella perlina con con le mani vi date con le dita date la pressione giusta ok e fate scendere un pochino la perlina tagliamo il filo in eccesso e la prima perlina guardate è inserita la stessa cosa dobbiamo fare da quest'altra parte quindi inseriamo anche l'altra perlina e abbiamo terminato la lavorazione inserita anche l'altra perlina guardate qui il sacchettino è terminato facciamo subito la prova allarghiamo mettiamo un pochino di ovatta in attesa dei confettini perché qui vengono inseriti i confettini prendiamo le due estremità stringiamo facciamo un nodino giusto per e lo inseriamo così guardate abbiamo terminato il nostro sacchetto ed è veramente molto molto carino vi posso dire che ci vuole anche pochissimo tempo per farlo quindi se avete poco tempo potete iniziare tranquillamente a farli perché in un giorno ne riuscite a fare abbastanza quindi tanti perché sono veramente semplici anche le mattonelle da fare e la lavorazione veramente sono due tre giri di lavorazione quindi tutto questo corrente di materiale non ci vuole perché basta avere cotone e perline siete a posto se non avete le perline potete anche fare solo il nodino e lasciare senza perline quindi lasciare il cappiettino le due catenelle unite così guardate un po' vi faccio vedere insieme agli altri farli di tanti colori comunque guardate in questo caso l'ho realizzati rosa turchese e giallo quindi in base all'occasione che avete potete anche farli veramente tutti colorati oppure fare il contrario la margherita lavorarla colorata e il sacchettino bianco se magari si tratta di comunione e volete fare un colore più delicato quindi potete realizzare la margherita rosa se si tratta di una di una ragazzina o turchese se si tratta di un ragazzo e poi magari lavorare il bianco qua la rifinitura farla del colore della margherita e qua il laccetto sempre del colore della margherita quindi potete comunque sbizzarrirvi con le vostre idee io spero che il video vi sia piaciuto se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video di rispondervi di rispondervi di rispondervi di rispondervi